Io andavo, mi alzavo alle tre e mezza di notte con la mia macchina, andavo ad uscita dell'autostrada, caricavo in macchina dal camion a mano una ventina di scatole di bufala da prechile, l'avete visto, sono i polisteroli classici, andavo entro le otto nei vari ristoranti che mi davano le chiavi dei locali, sotto scale, eccetera, eccetera, gli andavo a posizionare, alle sette e mezza arrivavo a casa, mi facevo una doccia, andavo in ufficio. Non è finita, lavoravo fino alle 12 e mezzo l'una, i miei colleghi andavano a mangiare, io mi mettevo in macchina, andavo in pizzeria a parlare, a vendere, a incassare, rientravo alle due e mezza in ufficio, lavoravo fino alle sei, alle sei uscivo, gli altri andavano a casa, si andavano a fare il piso e lo spritz, io invece andavo nei ristoranti, nuovi ristoranti, nuovi clienti, parlare, pubblicare le azioni, mi fermavo a mangiare una pizza con loro e così via riferendo. Questa cosa qui per anni? Quanti anni? Quattro, cinque anni.